A due giorni dal voto, chi ha decretato la storica conferma di Marco Marsilio alla presidenza della regione, parte il toto giunta. Marsilio si prenderà qualche altro giorno di riposo e poi inizierà a lavorare alla composizione del mosaico che dovrà restituire la nuova squadra di governo. Diversi gli aspetti da contemperare, peso elettorale, equilibrio territoriale, aspirazioni personali e sensibilità di partito. In ballo ci sono sette assessorati, tra i quali l'unico assegnabile ad un esterno e c'è anche l'ambito scranno della presidenza del Consiglio regionale. Fratelli d'Italia, che porta a Palazzo dell'emiciclo Benotto Consiglieri, può legittimamente aspirare a tre posti in giunta. Uno andrà certamente al marsicano Mario Quaglieri, assessore al bilancio uscente e candidato più votato da Abruzzo con quasi 12.000 preferenze. Pressoché scontato, un posto in giunta anche per il terramano Paolo Gatti, già assessore regionale ai tempi dell'amministrazione Chiodi e pronto a tornare in pista dopo aver portato in dote al centro-destra quasi 11.000 voti. Per la terza casella in quota Fratelli d'Italia è testa a testa tra l'ex sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, quarta candidata più votata dell'intera regione, e l'assessore uscente ex lega Nicola Campitelli, che però ha raccolto circa un migliaio di preferenze in meno di Magnacca. A Forza Italia, che con quattro consiglieri eletti e la seconda forza della coalizione, dovrebbe andare un assessorato più la presidenza del Consiglio regionale. Per la poltrona più alta dell'assise civica è in vantaggio Roberto Sant'Angelo, il più votato di Forza Italia in Abruzzo, che peraltro viene da cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio. Ma non è esclusa la soluzione Lorenzo Sospiri. Sospiri, già prima del voto, ha dichiarato pubblicamente che in caso di vittoria avrebbe gradito proseguire il suo percorso da presidente del Consiglio regionale e gli ottimi riscontri in termini elettorali potrebbero corroborare le sue aspirazioni. Sospiri, però, potrebbe anche optare per un posto in giunta, in modo da lasciare spazio in Consiglio ad uno dei suoi due fedelissimi primi dei non eletti di Forza Italia nella circoscrizione di Pescara, Paolo Cilli e Antonio Zaffiri. In caso contrario, qualora fosse Sant'Angelo ad entrare in giunta, scatterebbe il subentro di Antonietta alla porta. Sempre in casa Forza Italia, però, c'è anche il tema Mauro Febbo, capogruppo uscente e figura di spicco del partito, primo dei non eletti nella circoscrizione di Chieti. Potrebbe aspettare a lui l'unico assessorato esterno disponibile. Un assessorato andrà poi alla Lega e un altro alla lista civica Marsilio presidente. Entrambe le liste hanno espresso un unico consigliere. In pole position, per il carroccio, l'assessore uscente Emanuele Imprudente, aquilano e campione di preferenze della Lega, e il capogruppo uscente Vincenzo Dincecco, eletto nella circoscrizione di Pescara. Per la lista Marsilio presidente, il principale indiziato per un incarico da assessore invece è Luciano Marinucci, eletto nella circoscrizione di Chieti. L'impressione è che trovare la quadra non sarà semplice né immediato. Marsilio, ad ogni modo, si dice fiducioso e indica i criteri che guideranno le sue scelte. Buonsenso, competenza, riconoscimento dei pesi e dei valori sia numerici che di qualità, non avremo problemi a fare la giunta.